La Origa Cilento organizza i custodi degli Alburni, viaggio alla scoperta dei briganti nel territorio degli Alburni. Tiziana Lubano, come nasce l'idea di questa manifestazione? Ma allora, questa manifestazione, innanzitutto uno degli scopi è senz'altro il recupero del valore storico e culturale del brigantaggio, poiché al di là delle rievocazioni e delle celebrazioni fini a se stesse è un fenomeno che ci appartiene, che ha coinvolto i nostri paesi, le nostre case, la nostra gente. Dunque la manifestazione nasce con l'intenzione di favorire la conoscenza di un passato relativamente recente di cui si sa ancora poco. E' uno dei motivi che ci ha convinti nel perseverare in questo progetto e l'aver riscontrato in zona e soprattutto nei giovanissimi l'assoluta poca conoscenza di fatti e personaggi che hanno scritto nel bene e nel male una delle pagine più importanti della nostra storia. Tra l'altro, a ridosso, ad un passo dal centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia, ci è sembrato doveroso tentare perlomeno di far luce non tanto su un'altra verità nel momento in cui la nazione si sta prestando a celebrare i vari Cavuro, Vittorio Emanuele, piuttosto che Cialdini e Pinelli. Quindi non tanto un'altra verità quanto un altro aspetto della verità, quello che ci interessa direttamente. Qual è il programma di questa manifestazione? Noi per cercare di coinvolgere la popolazione, tutta la popolazione, diverso ovviamente per interessi, per formazione, per età, per livello sociale e culturale, abbiamo deciso che la manifestazione viaggerà su binari diversi. Dunque ci saranno incontri più formali come convegni, conferenze, tavole rotonde, ai quali parteciperanno giornalisti, storici, editori, nei quali si parlerà di brigantaggio, ma anche di immigrazione, strategie di marketing territoriale e incontri meno formali, che saranno chiacchierate con quelli che ci piace definire i custodi del sapere popolare. Poi ci saranno momenti di svago, i più leggeri come uno stagio di Tarantella che avrà luogo ogni pomeriggio a partire dalle tre e mezza nelle principali piazze dei paesi coinvolti, rappresentazioni teatrali, tanta musica popolare, degustazione di prodotti tipici e ovviamente inaugureremo venerdì mattina una mostra intitolata Insorgenze e brigantaggio postunitario nel territorio degli Alburni, curata dal professor Giuseppe Melchionda che sarà allestita presso Palazzo Spinelli ad Albanella. Ci tengo tra l'altro a sottolineare che il programma, molto articolato per la verità, è frutto della collaborazione di realtà territoriali diverse e per questo tra l'altro voglio ringraziare soprattutto Albalandia che è una realtà albanellese molto attiva, impegnata politicamente e a livello culturale e l'opera Vernieri di Albanella e la Proloco di Altavilla oltre che tra l'altro le istituzioni nelle persone di Mimmo Catalano, dell'assessore Domenicota Catalano di Serre Valeria Mazzarella di Albanella e Fernando Giuliano di Altavilla e molti privati che gratuitamente hanno dato il proprio contributo. Sarà una manifestazione itinerante che si svolgerà in tre comuni diversi? Sì, la manifestazione si svolgerà a Albanella, Altavilla Silentina e Serre perché il progetto nasce anche con un'altra finalità che è quella di iniziare a lavorare concretamente su programmi di cooperazione intercomunali a sostegno della valorizzazione del patrimonio creare sostanzialmente sinergia fra paesi limitrofi che presentano le stesse competenze endogene, le stesse capacità attrattive lo stesso capitale sociale e con questo intendo tutto ciò che comprende l'arte, la storia, il folklore, l'enogastronomia e la storia